Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti all'appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, con Dalma, concessionaria, Citroen, Peugeot e tanto altro e tra me e Davide che adesso vi parlerà una grande novità, ciao Davide Ciao a tutti, grandissima novità Rosi, in esclusiva vedete in anteprima la nuova C3 parlo proprio della nuova C3 e dico in esclusiva perché a settembre avremo il lancio ufficiale però qua da Dalma potete venire tranquillamente a vederla e anche a provarla, sì sì avete capito bene e anche a provarla saremo aperti tutto il mese, chiudiamo soltanto una settimana di ferragosto per fare un po' di vacanze e che dire vi aspettiamo qua numerosi a breve, Daniele vi illustrerà perfettamente la vettura ciao arrivederci, ah dimenticavo un saluto particolare a tutti i miei amici del lago che mi vedono sempre, ciao a tutti Ciao a tutti e buonasera e ben ritrovati in Dalma Ciao Daniele, scusa non volevo interromperti ma prima eravamo qua io e Davide e questa macchina è stupenda ma soprattutto io voglio chiederti subito una cosa, poi te la faccio descrivere questo prezzo qua, 16,9, è per la versione base quella che ha veramente solo l'indispensabile? No, è proprio su questa l'allestimento Maxi, il top di gamma incredibile come potete vedere è il top a 16.900 euro, ragazzi è un prezzo folle certo con gli eco-incentivi ma sappiamo che siete ancora in tanti a poter usufruire degli eco-incentivi perciò se avete una vettura da rottamare venite qui come avete sentito da Davide sono aperte addirittura tutto il mese d'agosto tranne la settimana di Ferragosto e avete l'opportunità di vederla, provarla e soprattutto acquistarla ad un prezzo imbattibile, ad un prezzo di una piccola utilitaria, di una city car ma qui avete una grandissima auto piccolo SUV, grazie mille, allora come potete vedere finalmente è arrivata la nuova C3 è bellissima, non c'è nulla da dire parliamo di un SUV compatto di 4 metri con un'altezza superiore rispetto alla vecchia di 1,57 quindi una vettura che ci dà un abitacolo spazioso e soprattutto la cosa che io ho apprezzato in questa macchina è il comfort grazie alle sospensioni adattive e al loro interno e qui vedete l'allestimento Maxi, quindi il top di gamma è una macchina che completa di tutto ci manca come si dice la macchinetta del caffè però c'è da dire questa cosa che a oggi la gamma è aumentata perché abbiamo i tre allestimenti, quindi U, Plus e come potete vedere la Maxi quindi possiamo andare a accontentare tutte le esigenze e soprattutto possiamo andare a creare delle rate accessibili a tutte le tasche come potete vedere qui abbiamo un esempio sulla C3 con l'allestimento Maxi con eco bonus, quindi macchina a 16.900 euro e con un piccolo anticipo di 2.000 euro una rata da 163 euro con il Simpli Drive quindi con una Maxi rata finale io vorrei descrivere un po' la vettura perché essendo nuova è una macchina che tutti dobbiamo conoscere e io avendola provata posso darvi le sensazioni che mi ha dato questa vettura partiamo proprio da un po' di dati tecnici qui abbiamo un 1.2 turbo 100 cavalli, 6 rapporti anche qui vorrei parlare del motore, il motore è migliorato perché oggi abbiamo un motore con la distribuzione a catena quindi una manutenzione minore, costi minori e soprattutto dei consumi fantastici parliamo di indicativamente 5,6 litri ogni 100 a livello estetico parliamo di questi bellissimi fari a led il nuovo logo di Citroen che rende comunque questa vettura molto accattivante abbiamo un angolo luce di 15 centimetri quindi realmente parliamo di un mini SUV, di un BSUV cerchi in lega maggiorati sull'allestimento Max a livello di sistemi di sicurezza parliamo del top quindi frenata attiva con riconoscimento peroni segnaletica stradale e uscita di carreggiata in più sedili comfort, sospensioni relative macchina con telecamera posteriore e sensori a livello di misure, ripeto, 4 metri per 1,75 di larghezza specchietti chiusi e altezza di 1,57 quindi una gran macchina come dicevamo prima manca solo la macchina del caffè beh il caffè vi invitiamo a venirlo a prendere qua in Dalma che sarà sempre offerto e troverete sempre, questo lo dico sempre entrando in un'atmosfera che è davvero difficile da trovare normalmente grazie Lodi sì sì, c'è grande familiarità ci si sente proprio agio perciò venite qui, venite a conoscere personalmente naturalmente non c'è solo la versione Max ecco sappiamo che ci sono anche altre versioni la U la Plus e pensate che la U con incentivo statale e un anticipo di 2.000 euro parliamo di una rata di 49 euro al mese e anche l'abbonamento della palestra ci costa così quindi veramente alla portata di tutti per saperne qualche cosa di più Daniele e gli altri collaboratori vi aspettano vi aspettiamo qui in Dalma e c'è anche da dire che per gli affezionati nostalgici abbiamo ancora il nostro cavallo di battaglia abbiamo le ultime C3 modello attuale e che anche qui con incentivo statale parliamo di una cifra di 12.900 euro con un allestimento Plus come questo in salone quindi anche qui non sulla base e con un anticipo sempre 2.000 euro 99 euro al mese quindi qui da dire cosa vi posso dire vi faccio anche andare in vacanza con la macchina nuova vi aspettiamo qui in Dalma certo però affrettatevi perché non sono tantissime parliamo davvero di ultime unità ne abbiamo poche vorremmo far contenti tutti ma non è possibile perfetto allora non voglio rubare la scena a questa macchina la nostra Miraglia del gruppo Citroen è la nostra bellissima C5X come potete vedere dalle immagini parliamo una vettura full optional questo in specifico è un plug-in hybrid 225 cavalli con tutti gli optional che si può avere su una vettura e ragazzi oggi anche questa la portate a casa ad un prezzo fantastico listino 51.800 euro e con sconto pronta consegna e incentivo statale ve la potete portare a casa 39.000 euro è un prezzo davvero incredibile allora vi aspettiamo anche qui ad agosto come già detto da Davide e adesso lascio la parola ai miei colleghi Peugeot grazie e arrivederci buonasera a tutti benvenuti da Dalma in questo caso siamo nella nostra zona Peugeot la casa del leone allora oggi abbiamo delle novità importanti da potervi sostanzialmente sottoporre innanzitutto abbiamo una new entry del gruppo Peugeot che è Fabio che poi vi presenteremo che è già una faccia conosciuta per la Dalma perché è un consulente commerciale che lavora con noi e collabora con noi da molto tempo però quello che vogliamo dirvi soprattutto sulle vetture perché? perché hanno reso riordinabile il nuovo Peugeot Rifter vettura a privato quindi in questo caso non parliamo di un autocarro ma parliamo proprio di vettura ci tengo a sottolineare che verrà presentato in motorizzazione termica quindi gasolio 1.5 diesel da 100 cavalli o 1.5 diesel da 130 cavalli cambio automatico due tipologie di allestimento Alluro GT anche sette posti avete capito bene? anche sette posti diciamo che in questo Peugeot riesce ad utilizzare un mezzo che fondamentalmente era stato abbandonato per solo la motorizzazione elettrica e riadattarlo alle vostre esigenze quindi vi consigliamo di passare in concessionario per avere un'offerta su misura fatta apposta per voi e per valutare tutto quello che offre la gamma Peugeot tra cui 208 che vi parlerà Fabio a brevissimo 3.800 nuovo 2.800 e novità su 408 e 508 lascio la parola a Fabio e vi auguro una buona serata ben ritrovati e dunque eccoci qua in Peugeot quest'oggi vogliamo insieme a voi vedere tre vetture la prima è la 208 su questa vettura possiamo ancora utilizzare gli incentivi statali e dunque se prendiamo questo modello 208 versione 75 cavalli active neopatentati la portiamo a casa a 13.900 euro questa vettura ha ovviamente cerchi da 16 fari full led davanti e dietro con sensori di parcheggio un'altra cosa anche molto interessante un'ampia gamma di 2008 anche questa vettura può accedere all'eco incentivo statale e nella versione 100 cavalli active sarà vostra a 19.900 euro come già vi ho anticipato abbiamo molte vetture qua dunque disponibili potete passare qua da noi per fare un preventivo vedere e visionare le vetture insieme a noi e anche fare un test drive per vedere quella che è la motorizzazione che più vi può soddisfare dunque partiamo dal termico classico all'ibrido e all'elettrico e non lasciamo da parte neanche la nuova arrivata di casa Peugeot che è la 3008 anche lei in tre motorizzazioni in questo caso abbiamo l'ibrido da 136 cavalli disponibile a breve la motorizzazione plug-in da 195 cavalli e poi la versione full electric da 210 cavalli ritorniamo di nuovo sulla piccola di casa Peugeot la 208 come già vi avevo anticipato in versione 75 cavalli ne ho patentati active questa vettura all'interno troviamo un tablet da 10 pollici con Android Auto ed Apple CarPlay la vettura ha anche i sensori di parcheggio nuovo interno ridisegnato per questa versione 2024 con vetri elettrici e nella versione 75 cavalli abbiamo un cambio 5 rapporti cambierà poi sulla versione 136 cavalli che è un ibrido con un cambio automatico nuovo 6 rapporti e per ultimare la carrellata lascio la mia parola al collega Andrea eccoci dovete scusare Fabietto ma Fabietto è sardo quindi lui stringe lui va sul succo del discorso allora vi ricordiamo semplicemente che Dalma chiuderà la settimana di ferragosto ma rimarremo aperti tutto il mese quindi vi aspettiamo calorosi nel senso che fa caldo quindi se volete rinfrescarvi il concessionario è climatizzato quindi venite anche da noi solo per rinfrescare e per bere un caffè perché siete i benvenuti e soprattutto per ricordarvi che appunto come vi ha detto Fabietto abbiamo un sacco di novità su Peugeot di prodotto abbiamo parlato di Rifter parleremo brevissimo anche di Peugeot Traveler quindi anche anche su questo Peugeot ha deciso di investirci molto proprio perché ritorneremo o cercheremo di ritornare soprattutto su questi mezzi a poter proporre a voi privati delle soluzioni di acquisto che non siano legate prettamente all'elettrico anche se noi ci puntiamo molto perché da sempre Peugeot ma da sempre Stellantis è eco-friendly quindi puntiamo molto a questa tipologia di motorizzazioni rinnovabili vi aspettiamo davvero per vedere quello che è il nostro salone che a breve verrà rivisitato di conseguenza non possiamo far altro che augurarvi una buona giornata e vi aspettiamo davvero a braccia aperte buona serata buonasera a tutti e bentrovati vi ricordo che Dalma è concessionario ufficiale DS e trovate da noi tutta la gamma DS3 DS4 DS7 DS9 questo mese abbiamo un'offerta molto molto particolare per i liberi professionisti e per le partite IVA abbiamo un tasso agevolato del 2,99 su DS7 con un'offerta e un anticipo di soli 4.000 euro più IVA potete portare a casa DS7 diesel 130 cavalli immatricolata come autocarro a soli 280 euro più IVA al mese è un'offerta di leasing quindi con Maxirata venite a trovarci perché abbiamo pochissimi pezzi disponibili buona serata